Un libro autobiografico che attraversa i momenti più bui della vita fino ad accarezzare la morte, ma senza averne paura. Si intitola Non ho paura di morire, è il nuovo romanzo di Diego Dalla Palma, tra i più grandi esperti di bellezza e di stile mondiali, scritto insieme ad Alessandro Zaltron ed edito da Salani. Un viaggio lungo la linea sottile che separa la vita dalla morte, come spiega lo stesso Dalla Palma. In realtà dovrebbe esserci un sottotitolo, ho paura di vivere, non ho paura di morire perché ho paura di vivere, che indubbiamente è un libro anche autobiografico, anzi soprattutto autobiografico, perché parte, lo dico brevemente, parte da un anno che per me è stato molto importante, il 2004, in cui io dopo aver coltivato da sempre il concetto di morte, volevo incontrarla sta morte, per una serie di eventi che stavano riducendo la mia vita a un calo di interessi considerevole. Ecco, ho detto qualche cosa che mi ha fatto cambiare idea. Ho accarezzato nel tempo la morte, prima di tutto perché sono assolutamente consapevole di cosa sia un coma, perché l'ho vissuto. Quindi il coma è un passaggio meraviglioso, celestiale, paradisiaco, sublime, onirico, esoterico, che non è spiegabile. Soltanto gli imbecilli spiegano un coma perché non è spiegabile. Però lì ho coltivato immediatamente, ho conosciuto la leggerezza della morte. C'è un tempo in cui tutto diventa grigio. Valerio, attore di teatro di grande successo, è malato di vita. Alle soglie della vecchiaia si interroga sul suo destino. È un libro di libertà, è un libro di vita. Vivere la vita, dando senso alla vita, cercando di avere un'opinione alta della vita, ma nello stesso tempo dare un senso alla morte e avere un'opinione alta anche della morte. È un libro per coloro che hanno paura della morte. Io non ho paura da tempo. Un libro coraggioso, una riflessione a cuore aperto sulla vecchiaia, sulla morte e sulla bellezza della vita. Il pensiero che trasmetto è questo. Essere se stessi costa molto. La vita ti presenta dei conti pesantissimi e le giornate diventano sempre più pesanti nell'essere se stessi. Però se si ha voglia di essere se stessi è un viaggio meraviglioso, che rende più colorata la vita, la rende anche più elettrica, più frizzante. Dà un senso alla vita. Ecco, se uno ha voglia, uno, una, ha voglia di essere se stesso con coraggio, credo che possa trovarsi a proprio agio leggendo questo libro. Grazie. Grazie.